La cugina di primo grado della principessa Diana ha rivelato una speciale cotta d'infanzia che la defunta Reale ha tenuto vicino durante i suoi giorni di scuola. Una cugina di primo grado della defunta principessa Diana ha rivelato che la Reale teneva le foto di una cotta d'infanzia nelle vicinanze durante i suoi giorni di scuola. In effetti, si dice che la principessa del Galles abbia decorato il suo dormitorio con le immagini del principe Carlo, scoperto da un nuovo documentario di ITV sulla vita di Diana. Diana McFarlane ha frequentato la West It Girls School nel Kent contemporaneamente alla Royal e ha parlato pubblicamente per la prima volta per condividere i suoi ricordi. La McFarlane ha detto al nuovo documentario di ITV, la vita nel dormitorio, avevi tutto il tuo letto e il tuo comodino e poi c'erano gli armadietti per appendere le cose. Avevamo i nostri orsacchiotti e tutti adoravano avere la loro fotografia sul comodino. Tutti noi abbiamo le foto di varie pop star che ci sono piaciute. Ai Monkies, alla gente di Rod Stewart piace così. Ma posso dire che aveva fotografie del principe Carlo intorno al suo letto a West It. Una specie di cotta d'infanzia davvero. Con Diana, erano sempre le foto del principe Carlo. I genitori della signora McFarlane sono Christopher Baldwin, Hughes Wake Walker e Lady Diana Spencer, una zia paterna della principessa Diana. ITV trasmetterà il nuovo documentario Diana stasera. Giovedì 24 giugno. Alle 21. Il nuovo speciale di 90 minuti arriva prima di quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa del Galles, il 1 luglio. Il produttore esecutivo del documentario David Glover ha dichiarato. C'è qualcosa di magico nella principessa Diana e, nonostante le difficoltà nella sua vita personale, è riuscita a usare la sua connessione con le persone per fare enormi quantità di bene. Il suo sessantesimo compleanno sembra il momento perfetto per riesaminare la sua vita e la sua eredità ed esplorare come è passata da un'adolescente relativamente sconosciuta alla persona più addolorata che sia mai esistita. La signora McFarlane rende anche omaggio al suo defunto cugino in una rara intervista esclusiva.